Ciao ragazzi e ben ritrovati, quest'oggi vi porto a Bianco in provincia di Reggio Calabria in questa pista go-kart veramente molto carina di fronte al Mar Ionio siamo stati subito accolti dal gestore Simone che è stato veramente simpaticissimo che ci ha spiegato un po' la pista, come nasce, quali sono le caratteristiche stiamo parlando di una pista abbastanza corta di 750 metri di lunghezza questo siamo Giuseppe ed io prima della sessione di gara e questo dopo la sessione di gara ne abbiamo fatte 4, si vede che siamo fuori allenamento, guardate il mio viso grondante di sudore ma c'è comunque soddisfazione e divertimento torniamo a noi Simone che ci spiega che ci sono 6 kart e ha ripreso da poco il complesso di questi go-kart quindi deve reinvestire per prendere altri kart, mettere i transponder, deve aggiustare ancora i box ma è un appassionato e si vede, c'è anche la parte qui di ristorante ed è stato gentilissimo ci ha offerto anche da bere e mi ha regalato anche un cappello ragazzi, quindi gentilissimo Simone e noi ci siamo fatti i 4 sessioni e quindi c'è stato anche la parte del tramonto e la parte notturna di questi kart e mi è capitata una disavventura perché non mi sono proprio preparato tutti i supporti per le telecamere e di conseguenza ho preso quello della pettolina e i risultati sono anche scadenti per quanto riguarda le prime immagini questo è Simone che è stato ripeto veramente gentilissimo, ci ha accolto veramente con professionalità e con una gentilezza veramente impressionante quindi queste sono le prime immagini, faccio la prima sessione e poi io giustamente vado a controllare e mi rendo conto che insomma non è tanto bello, non è stabile e di conseguenza decido di cambiare il posizionamento della telecamera e la metto qua dove c'è il casco sulla carena del kart dove c'è appunto la plastica ed è stata una scelta molto infelice il posto è veramente bellissimo perché siamo in mezzo, siamo a due passi dal mare ma dietro ci sono le colline della Calabria e siamo immersi tra gli alberi di olivo che è veramente fantastico in questa tipica paesaggio caratteristico Calabria e qui la disavventura ragazzi, la telecamera attaccata alla carena del motore si spezza subito e sono costretto a guidare con una mano allora per chi non lo sapesse guidare un kart non è che è leggerissimo c'è comunque un po' di sforzo oltretutto se non siete allenati come noi visto il sudore dalle immagini che vi ho fatto vedere diventa uno sforzo comunque diventa uno sforzo interessante voglio dire da sostenere quindi ho fatto praticamente una sessione intera con la telecamera in mano guidando con una mano la sfida con Giuseppe era vista la piccola differenza di peso e qui stiamo parlando 5 kg sono due decimi a giro e comunque che il suo kart era meno performante la sfida era quella di non superarlo alla fine del rettifilo ma bensì nella parte guidata Giuseppe è stato bravissimo è riuscito a tenermi praticamente sempre io sono qua che sto facendo il deficiente perché mi sento un bambino pure che ho 45 anni in queste situazioni è stato veramente molto divertente quindi qui la sfida come vedete ho più motore rispetto a Giuseppe e quindi di conseguenza alzavo il piede proprio nel rettifilo però Giuseppe come dicevo si difendeva veramente benissimo nella parte guidata dopodiché le cose sono cambiate perché il titolare ci ha detto ragazzi cambiate kart perché sono diversi e lì la storia è cambiata totalmente le ultime due sessioni sono state pazzesche uno dietro l'altro per circa 20 minuti e lo stesso Simone ha visto l'intensità della gara e del fatto che eravamo uno dietro l'altro e ci superavamo in ogni curva ci ha anche regalato 5 minuti più o meno in più per lasciarci proprio finire la sfida che ho vinto che ho vinto mamma mia me la sono sudata e questo però è il pezzo forte della serata guardate Peppa mi ha fatto un drift controllato ragazzi pazzesco ci siamo fermati un attimino che hai fatto? boh non lo so è stato veramente fantastico quindi ragazzi io vi lascio con gli ultimi pezzi in cui c'è la sfida aperta con Giuseppe anche se qui è la parte in cui ancora abbiamo i kart il mio più performante e anche la clip del reel che ha postato Simone che ringrazio tantissimo se passate in Calabria e vi piace fare kart secondo me è una tappa da fare assolutamente perché ci si diverte come al solito lasciate un pollice in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo prestissimo da Fabrizio è tutto ciao ciao ciao